Manifattura di Rovereto. È stata questa la cornice scelta come sede della 12esima seduta della giunta Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Numerosi temi all'ordine del giorno. A fare gli onori di casa è il segretario generale Valentina Piffer che ha presentato i progetti in corso gestiti dall'ufficio comune di Bolzano insieme alle iniziative future di cooperazione in ambito euro regionale. Con soddisfazione sono stati accolti i risultati del cosiddetto Euregio Monitor, un'indagine rappresentativa sul grado di notorietà e sui valori dell'Euregio nella popolazione in Tirolo Alto Adige Trentino. È stato celebrato brevemente anche il secondo posto del premio Building Europe Across Borders conferito recentemente a Bruxelles per l'iniziativa relativa al Fondo Euregio per la ricerca scientifica. Oggi abbiamo anche preso atto con soddisfazione che il Fondo Euregio per la ricerca ha ricevuto un premio di prestigio, è un premio della Commissione Europea, è un premio costruire l'Europa senza frontiere ed è quanto mai attuale perché dimostra come lavorando assieme si possano fare delle cose molto interessanti. È un fondo dedicato di circa 3 milioni di euro dedicato alle nostre tre università ma anche agli istituti di ricerca che gravitano nella nostra Euroregione, implementa direi la loro capacità di lavorare assieme che è già molto buona e soprattutto favorirà, e questo è un altro obiettivo del Fondo, la mobilità fra professori, fra didattica e fra studenti delle stesse università. Nella seduta di Rovereto sono stati illustrati i dettagli del coinvolgimento nel progetto EUSA-Alpe e in particolar modo dell'insediamento del cosiddetto Service Point a Bruxelles. Presentati anche i nuovi report della Task Force dell'Euregio sulla gestione dell'emergenza profughi. C'è da registrare anche il fatto che i flussi sono molto inferiori rispetto all'anno scorso, questo probabilmente è dovuto anche a un impegno straordinario del governo sul fronte anche diplomatico per quanto riguarda il tema del Mediterraneo e mi pare anche di poter dire che quei controlli lungo lo Stato italiano che noi avevamo richiesto per evitare che si formi un collo di bottiglia al Brennero stiano funzionando maggiormente e questo è un dato positivo. Dobbiamo tenere alto però il livello di attenzione e monitorare attentamente che cosa accade. Lo faremo però anche affermando un principio che ciò a cui abbiamo lavorato, cioè la capacità di guardare al futuro assieme, è ancora un dato che vogliamo conservare nel nostro agire. Particolare attenzione è stata data al progetto Euregio Sociale, uno strumento per dare delle risposte concrete ai cittadini dell'Euregio che si trovano per un motivo o per l'altro in difficoltà. La conferma da parte di Euregio di giocare un ruolo da protagonista sulla scena internazionale anche quando vengono affrontati temi di fondamentale importanza. Credo che l'Euregio in questi ultimi mesi abbia dimostrato che può avere un ruolo soprattutto quando ci sono questioni difficili, sfide da affrontare. Questo riguarda adesso i flussi migratori, abbiamo potuto mediare tra l'Italia e l'Austria, siamo riusciti a convincere i due Stati a collaborare e così si sono evitate anche misure straordinarie che avrebbero potuto avere delle conseguenze molto negative sui flussi di traffico sul Brennero e noi ovviamente abbiamo questo spirito di collaborazione anche in una convenzione europea. L'Europa ci guarda, ci guarda come modello di collaborazione tra i popoli, di superamento dei confini e questo ci rende anche orgogliosi e vogliamo andare avanti in questa direzione. La giunta dell'Euregio ha discusso del progetto didattico Euregio che si ispira al modello della cosiddetta scuola europea. Illustrati i dettagli del tour ciclistico delle Alpi e del music camp dell'Euregio a Dobbiaco in Valpusteria.